Fermato a Caltanissetta dalla polizia per detenzione di due chili di sostanza stupefacente del tipo Ascish ai fini di spaccio, Raffaele Mustacciolo, 33 anni, palermitano. Durante un servizio di controllo da parte degli agenti della squadra mobile alla stazione dei bus di via Rochester, Mustacciolo veniva sottoposto a perquisizione. La droga rinvenuta all'interno di un pacco era suddivisa in 20 panetti da 100 grammi. Mustacciolo è stato rinchiuso nel carcere Malaspina a disposizione dell'autorità giudiziaria.